Il mercoledì delle ceneri celebrato a Gerusalemme nella Basilica del Gezzemani. In quest'anno dedicato alla misericordia, le ceneri, simbolo di penitenza e di conversione, sono state conferite nell'attraversare la porta della misericordia. Alla celebrazione partecipa la delegazione pontificia, che in questi giorni si trova in Terra Santa, per sottolineare la pastorale e la giornata degli ammalati. Tante le presenze e i contenuti della celebrazione, che ha suggerito considerazioni e propositi nuovi. Nell'Omelia Monsignor Marcuzzo ha congiunto insieme l'anno della misericordia e la giornata dei malati. Partendo dal motto programmatico indicato dal Santo Padre, misericordia io voglio e non sacrificio, ha esortato a praticare la misericordia concretamente, evitando gli inganni della falsa legalità e dell'esteriorismo. L'opera di misericordia che la giornata dei malati suggerisce non poteva essere altra che quella di visitarli. È il proposito che si è fissato il Vescovo di Nazareth di dedicare ogni domenica pomeriggio alla visita degli ammalati negli ospedali. Ma la presenza della delegazione pontificia non si è fermata a questa sola celebrazione. Molti altri sono gli eventi organizzati per favorire in Terra Santa una pastorale della misericordia verso gli infermi. Come sono andati i molteplici incontri? Questo quadro di celebrazioni per la giornata mondiale dell'ammalato sta andando molto bene per i fedeli locali, per i fedeli pellegrini, perché abbiamo anche un certo numero di ammalati che vengono un po' dall'esterno, soprattutto dalla Spagna in questo caso, anche per naturalmente la delegazione ufficiale della Santa Sede. Abbiamo avuto qualche piccolo problema di tempo, ma tutto il resto è andato bene. Soprattutto il simposio e le celebrazioni liturgiche. Ieri il simposio sui problemi della bioetica è stato eccellente, veramente una buona partecipazione. Tra i concelebranti una presenza qualificante, il Vescovo di Mossul. Per quali vie ho potuto giungere qui? Sono venuto con un gruppo dall'Italia. Ero infatti in Italia per una conferenza, in cui ho presentato la mia testimonianza di fede, che in questo periodo è particolarmente toccante. Ho reso la mia testimonianza sull'Iraq, e poi loro mi hanno chiesto di accompagnarli nella giornata mondiale per i malati, per dare un'altra testimonianza qui, a Gerusalemme e a Nazareth. La sua missione oggi è di essere presente nella mia diocesi. Se poi vado fuori ci vado per far sentire la nostra voce, per suscitare sentimenti di umanità, per rendere coscienti che c'è un dovere nei nostri confronti, per quanto il nostro popolo sta soffrendo ed è anzi prossimo a sparire. Infatti la chiesa sirocattolica nel mondo non è numerosa, non sono più di 170.000 persone. La mia diocesi di Mossul era di 50.000. Eravamo quasi un terzo della chiesa sirocattolica. Ora che la diocesi di Mossul è stata dispersa, è chiaro che la componente sirocattolica è prossima a sparire. Non c'è più una speranza. La speranza c'è sempre, in Dio e nelle persone buone. Penso che la bontà non mancherà mai nel mondo. Penso che la bontà non mancherà mai nel mondo.